ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco pentacere unghie a cosa serve pentacere unghie a un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti protettivi multifunzione per mani e unghie è commercializzato in italia dall'azienda pentamedical srl informazioni commerciali titolare pentamedical srl concessione pentamedical srl categoria di appartenenza idratanti protettivi multifunzione per mani e unghie confezioni pentacere unghie emulsione unghie 15 ml indicazioni in tutti i casi di fragilità ungueale unghie che si spezzano friabili molli anelastiche sottoposte a stress fisici lavaggi frequenti solventi detergenti acidi aiuta a ridurre lo sfaldamento delle unghie rafforzando nell'integrità e l'idrazione particolarmente raccomandabile in caso di unicofagia modalità d'uso applicare il prodotto sull'unghia e sulla cute circostante due o più avvolte al giorno massaggiando fino a completo assorbimento in caso di lavaggi frequenti si consiglia di utilizzare il prodotto dopo ogni lavaggio descrizione e caratteristiche trattamento specifico per la fragilità delle unghie emulsione a base di cheratina idrolizzata che rafforza idrata e protegge le unghie fragili che si spezzano facilmente grazie a un pool di principi attivi mirati ripristina la struttura ungueale rendendola dura elastica e flessibile componenti e ingredienti acqua alcol denat pantenol poliacrilate 13 che si litiglucoside idrolizzate che era timpigit propil metilsilane di ol isononil isononanoate polimetil metacrilate tocco ferrol tocco feri l'acetate anidroxilitol polisorbate 20 xilitol fenoxietanol denatonium benzoate propilene glicol polisobutene etilparaben metilparaben propilparaben buty paraben piroctoneulamine idrolizzate keratin lactobacillus ferment fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato